E' dedicata ai piccoli pazienti della struttura di nefrologia e dialisi dell'ospedale Santo Bono la quinta edizione di Scocca la Scintilla, manifestazione di solidarietà organizzata dal consorzio di imprese Consai. L'evento si terrà lunedì sera al Teatro Diana, dove andrà in scena la commedia di Maurizio Casagrande, anche l'occhio vuole la sua parte, con Michele Caputo. Il ricavato della serata andrà in beneficenza all'associazione Onlus per il bambino nefropatico, un dono per Valentino. Ogni soggetto ha le proprie responsabilità verso un sociale sofferente e quindi ben vengano queste iniziative che noi guardiamo con simpatia e facciamo appello alla solidarietà. Abbiamo detto ok, abbiamo una responsabilità, abbiamo un ruolo sociale, proviamo a viverlo 12 mesi l'anno, proviamo a portare e ci rendavamo conto che questa cosa ci faceva fare più business. Quindi siamo imprenditori, il nostro fine principale è quello di fare utili e ci siamo accorti che c'è un modo diverso per fare utili in maggiore quantità ma soprattutto con maggiore gratificazione personale. Quindi poi l'evento ha preso questa piega negli anni e siamo contenti di essere qui alla quinta edizione.